Il ruolo di comando ho assunto con molto entusiasmo l'incarico di direttore marittimo dell'Emilia Romagna, consapevole delle sfide che aspettano questa realtà produttiva marittima, sicuramente saremmo all'altezza di portare avanti i programmi che sono in cantiere e quelli che poi nasceranno nel prossimo futuro. Si è parlato del labo portuale, si è parlato degli sviluppi di traffici a seguito anche della pandemia, quindi il mercato dei nori non si è mai fermato. Le attività marittime non hanno mai fermato la loro catena logistica, quindi noi faremo il nostro ruolo e andiamo avanti nella nostra direzione.